Il lavoro di rete per contrastare il fenomeno della violenza domestica è un lavoro fondamentale, è l'unico lavoro possibile perché è quello necessario per cercare di dare un aiuto alle donne che si trovano in questa situazione ed è dunque in questa prospettiva che come associazione Violetta intendiamo lavorare. Lo abbiamo fatto finora in collaborazione con l'ASLTO4, in collaborazione con il corso di laurea di infermieristica di Ivrea e continueremo a farlo stabilendo anche dei canali privilegiati di comunicazione con il commissariato di polizia di Ivrea e banchette. Ci auguriamo davvero che in futuro questa comunicazione circolare tra di noi e in realtà con tutte le altre associazioni, con tutti gli altri soggetti che sul nostro territorio si occupano di questa realtà possa dare degli esiti positivi soprattutto per le donne in modo tale che si sentano supportate da più persone che seppur a diverso titolo faranno delle operazioni di lavoro congiunto per raggiungere gli obiettivi desiderati.